Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Oggi vediamo come risolvere i problemi di tracciamento sul Quest 2 e come rimediare a gran parte dei problemi relativi a controller e tracciamento. Like, iscrizione e campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video, venite a trovarmi sulla pagina Facebook Advanced VR Fair e utilizzate il link in descrizione per comprare i vostri giochi preferiti a prezzi scontati su Instant Gaming, facendo così supporterete anche il canale, grazie. Quante volte vi sarà capitato di muovere le mani mentre state giocando in VR e queste non vengono tracciate. Può capitare in diverse situazioni, per esempio, prendete la pistola dalla fondina e quando andate in puntamento non vedete la mano davanti a voi perché il tracciamento è stato perso. Oppure quando per esempio state tendendo un arco, la mano che tende la corda andando dietro non viene più vista. O magari incrociando le mani, la mano che sta sotto non viene vista. Sappiate che se avete questi problemi, col Quest 2 è perfettamente normale poiché rispetto al Rift S il tracciamento sul Quest 2 è meno preciso. Forse è anche questo il motivo per il quale le batterie sul controller del Quest 2 durano molto di più. Magari i segnali per il tracciamento nei controller del Rift S sono più forti, più intensi e quindi abbiamo un tracciamento migliore, direi quasi impeccabile, ma una durata della batteria nettamente inferiore. Comunque, a parte queste piccole differenze e nonostante i controller del Quest 2 abbiano un tracciamento meno preciso l'esperienza di gioco è comunque godibile, si gioca senza tanti problemi, a me capita raramente e chi ormai ha il Quest 2 da un bel po' di tempo sa come muovere le mani e dove tenerle appunto per non fare perdere mai il tracciamento. Tuttavia potrebbero esserci dei problemi che sì, rovinano l'esperienza di gioco o addirittura rendono impossibile il gioco. Tipo mani che improvvisamente restano bloccate a mezz'aria in qualche punto nello spazio o che cominciano a ruotare oppure muoversi all'impazzata dove vogliono loro. Ecco, se avete questi o altri problemi che vi impediscono di giocare, in questo video potrebbe esserci la soluzione al vostro problema. Iniziamo dalle soluzioni più semplici. Assicuratevi che le batterie siano cariche. A volte potrebbe capitare che l'indicatore della carica della batteria vi dice che la batteria è a metà o addirittura è completamente carica, ma non vi costa nulla. Provate a cambiare batterie, a mettere delle batterie sicuramente nuove, sicuramente cariche e vedete se risolvete il problema. Se avete il Quest 2 da poco e non avete mai cambiato la batteria, seguite questo video per sapere come sostituire le batterie sul controller del Quest 2. Restando in tema batteria, se avete sostituito le batterie e il problema non viene risolto, assicuratevi che state utilizzando delle batterie AA ad almeno 1,5V, quindi 1,5V. Indipendentemente dal fatto che stiate usando batterie monouso, quindi di quelle che si scaricano e poi le dovete buttare, sia che state utilizzando le ricaricabili. In ogni caso, devono essere almeno a 1,5V. Bene, verificato che il problema non sta nelle batterie, perché seguendo questi suggerimenti, questi passaggi, non avete ancora risolto, proviamo a vedere se il problema è la luce, l'illuminazione. Prima di tutto, i visori Oculus non sono in grado di funzionare al buio. Nessun visore lo è, a dire la verità. Soltanto il CV1 è l'index, ma non perché il visore è in grado di farlo, ma per i satelliti esterni, per le basi esterne. L'index e il CV1 hanno delle basette esterne che si piazzano a una certa distanza e a una certa angolazione rispetto al visore e, a cosa servono, inviano degli impulsi all'infrarosso e quindi sono in grado di tracciare sia il visore che i controller anche al buio. Quindi, se non avete un index e non avete un CV1, scordatevi assolutamente di giocare al buio. A meno che non sostituite la vostra lampada tradizionale con una lampada all'infrarosso, nella stanza sarà completamente buio quando la accendete perché l'infrarosso, noi non riusciamo a vederlo, è invisibile all'occhio umano, ma le telecamere del Quest e del Rift S sono sensibili alla luce infrarossa e quindi riusciranno a funzionare anche al buio. Ma in realtà è grazie alla lampada infrarossa. Comunque, se non avete uno di questi visori e non volete accendere una luce all'infrarosso, scordatevi di giocare al buio. Di contro, se la luce è troppo forte, troppo intensa, i visori, avendo delle telecamere sensibili alla luce, per poter tracciare meglio i segnali infrarosso che partono dai controller, sono appunto sensibili alle luci troppo forti. Ecco perché è fortemente sconsigliabile giocare all'esterno con il Quest 2, non solo perché i raggi del sole potrebbero bruciare lo schermo tramite le lenti, che concentrano il raggio solare appunto sullo schermo e quindi lo vanno a bruciare. Funziona esattamente come una lente di ingrandimento su un foglio di carta. Ma le telecamere, essendo sensibili all'infrarosso e quindi alle luci troppo forti, potrebbero rimanere definitivamente abbagliate e quindi potrebbero non funzionare più e non tracciare più. L'uso ideale sia del Rift S che del Quest 2 è in un ambiente chiuso, con una luce artificiale, anche se effettivamente io ci ho giocato per esempio con la luce diurna, non la luce diretta del sole, ma con la luce diurna che entrava attraverso la finestra, oppure con una luce leggermente soffusa. Detto ciò, se utilizzate delle luci a incandescenza, quindi le classiche lampadine di vetro a luce calda e a luce gialla, provate a sostituirle con delle lampade LED a luce fredda. Se riscontrate problemi invece con la luce fredda, provate a regolare la frequenza di tracciamento utilizzando l'applicazione Oculus sul telefono. E vediamo come si fa. Dunque, prima di tutto accendete il visore e attivate il Bluetooth e il GPS sul telefono. Aprite l'applicazione di Oculus e assicuratevi di aver selezionato il visore sul quale volete modificare la frequenza. Andate su impostazioni, toccate la voce con il numero di serie del visore, andate su altre impostazioni, toccate impostazioni avanzate, toccate frequenza di tracking e provate tutte e tre le voci, automatica, 50 Hz e 60 Hz. E vedete se una di queste voci risolve il vostro problema. Ora passo a mostrarvi invece come riconfigurare nuovamente, come riassociare nuovamente i controller se il visore improvvisamente non vede più completamente i controller. Avete due modi per farlo. Usando l'applicazione Oculus sul telefono e utilizzando l'applicazione Oculus su PC. Questa soluzione è valida sia per Quest 2 che per Rift S. Vediamo per prima cosa come fare dall'applicazione sul telefono. Come nel passaggio precedente il Quest 2 deve essere acceso e sul telefono dovete aprire l'applicazione Oculus e attivare il Bluetooth e il GPS. Per prima cosa dovete disassociare i due controller. Quindi come si fa? Selezionate il visore, andate su impostazioni, toccate sulla voce con il numero di serie del visore, toccate su controller, selezionate il controller sinistro e poi annulla associazione. Ora tornate indietro e ripetete il passaggio per il controller destro. Una volta disassociati entrambi, tornate indietro, toccate nuovamente la voce controller, dove adesso non ci sarà più la carica della batteria indicata, e toccate Associa un nuovo controller. Toccate su controller sinistro, prendete fisicamente in mano il controller sinistro e dovete tenere premuti contemporaneamente il tasto menu, che sarebbe quello con le tre piccole linee, e il tasto Y. Dovete tenerli premuti entrambi contemporaneamente fino a quando il controller non emette tre piccole vibrazioni. A questo punto potete rilasciare i tasti. Quando termina l'accoppiamento, una luce lampeggerà sull'anello e il controller emetterà una vibrazione più forte e più lunga. Inoltre sul vostro telefono vedrete un messaggio di conferma dell'avvenuto accoppiamento. Tornate indietro e ripetete il passaggio per il controller destro. A questo punto tutti e due i controller saranno nuovamente accoppiati. Dall'applicazione Oculus, invece, accendete il visore, collegatelo al PC attraverso il cavetto, attivate il collegamento link e andate su dispositivi. Anche qui selezionate i controller e rimuovete l'associazione. Prima il destro e poi il sinistro. A questo punto, se cliccate su Associa dispositivo, non vi consentirà di associare i controller, ma soltanto un joypad. Ovviamente questo non ci interessa. Quindi, come riassociamo nuovamente i controller? Semplicemente scollegate il visore dal PC, spegnetelo, riaccendetelo nuovamente, ricollegatelo al PC e riattivate il collegamento link. A questo punto i due controller verranno automaticamente riassociati. Bene ragazzi, questi passaggi dovrebbero aiutarvi a risolvere la maggior parte dei problemi di tracciamento con Oculus Quest 2 e Rift S. Ma se non avete risolto seguendo questa guida, fatemelo sapere tra i commenti e proveremo a trovare una soluzione insieme. Grazie per la visione, like, iscrizione e campanella per rimanere aggiornati. Da Ben è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Ciao ragazzi!